Gianfranco Milozzi, qual è lo stato di salute del Coni di Chieti? Uno stato di salute ottimo, anche perché abbiamo avuto la fortuna della bravura di Nicolai, che è medaglia d'argento a Rio, che ci ha dato molta soddisfazione. È un ragazzo che noi abbiamo cominciato a premiare da quando aveva 12 anni, è arrivato ai massimi livelli vincendo una medaglia d'argento, ma vincendo campionati del mondo e campionati d'Europa. Quindi lo stato di salute dell'intera provincia è ottimo per il semplice fatto che ci sono tanti giovani che si sono affermati a livello nazionale e internazionale, nelle varie discipline sportive, questo è il bello della nostra provincia, non è solo il calcio che è dominante, ma ci sono tante discipline sportive, cosiddette piccole, che si sono affermate a livello internazionale. Questo è un grosso risultato. Senza fare torto a nessuno, ci sono realtà che hanno vinto anche titoli italiani, che hanno vinto scudetti, che sono stati promossi nei massimi campionati, non so, ci viene in mente anche il calcio femminile, ci vengono in mente gli scacchi, ci viene in mente la sempre molto premiata ginnastica, ma tanto per fare degli esempi, sono dei fiori all'occhiello per il Coni di Chieti. Sì, io adesso devo dire una cosa, per quanto riguarda la ginnastica, c'è stato un ricambio generazionale. Quest'anno, ricambiando tutta la squadra, l'Armonia d'Abruzzo si è classificata al terzo posto in Italia, quindi i ragazzi che sono entrati al posto di quelli che hanno lasciato per raggiunta età, significa che si stanno già affermando. Ma anche negli altri sport, cioè i ragazzi che si sono affermati sono... Io posso dimenticare qualcuno, però discipline sportive tutte, quasi, hanno avuto una chicca ottima a livello nazionale. La voglia non ti manca, proprio per concludere, sei attorniato anche da tanti giovani che seguono le tue orme come dirigente, come collaboratori. Io questo è il ventisettesimo anno che organizzo una festa dello sport, quindi non sono stanco in modo più assoluto, ho dei miei problemi personali, ma quando sto in mezzo allo sport, in mezzo a tutti i ragazzi che partecipano attivamente alla vita sportiva, io mi sento bene e tralascio le cose che mi fanno sentire un po' male.